Megre Dormì di un sonno agitato e insieme voluttuoso, come si può dormire solo in una camera che odora di stalla, di mele e di fieno. Da ogni angolo gli arrivavano addosso correnti d'aria e le lenzuola erano fredde come il ghiaccio, tranne che nel punto esatto in cui il suo corpo aveva formato una tiepida, soffice e intima cavità. Così raggomitolato su se stesso cercava di evitare il più piccolo movimento. Dalla mansarda attigua gli erano giunti più volte i colpi di tossi di Jean Metaillé finché udì i passi furtivi di Marie Tatein che si alzava. Rimase a letto ancora qualche minuto, poi accese la candela, ma non ebbe il coraggio di lavarsi con l'acqua gelata della brocca. Rimandando a più tardi la toilette scese in pantofole senza solino. Giù da basso Marie Tatein versava petrolio sul fuoco che non voleva prendere. Aveva i capelli fissati con le forcine e arrossì nel vedere il commissario. Non sono neanche le sette, il caffè non è ancora pronto. Un pensiero angustiava Maigret. Una mezz'ora prima, nel dormiveglia, gli era sembrato di sentire un'auto. San Fiacra non è sulla strada maestra e la corriera che lo attraversa passa solo una volta al giorno. Marie, a che ora parte la corriera? Mai prima delle otto e mezzo e il più delle volte verso le nove. Questa è già la campana della messa? Sì, d'inverno suona alle sette, d'estate alle sei. Non vuole scaldarsi un po'? E gli indicò il fuoco che finalmente scoppiettava. Quando ti deciderai a darmi del tu? Maigret si sentì a disagio nel cogliere sul viso della povera Marie un sorriso civettuolo. Il caffè sarà pronto fra cinque minuti. Non avrebbe fatto chiaro prima delle otto e il freddo era ancora più pungente del giorno prima. Maigret, col bavero del cappotto rialzato e il cappello calcato fin sugli occhi, si incamminò lentamente verso la macchia luminosa della chiesa. Non era più un giorno di festa. In chiesa c'erano solo tre donne e la messa aveva un che di affrettato, di furtivo. Il prete andava troppo rapidamente da un punto all'altro dell'altare e troppo rapidamente si girava con le braccia aperte per far fulgiare «Dovino sfobiscum!» Il chiarichetto, che faceva fatica a stargli dietro, diceva «Amen al momento sbagliato» e si precipitava sul campanello. A che cosa era dovuta tutta quella fretta? A un nuovo attacco di panico? Fatto sta che nel brusio delle preghiere si distingueva a tratti il respiro dell'officiante che riprendeva fiato tra una parola e l'altra. «Itemis est!» Quanto era durata la messa? Certo, non più di dodici minuti. Le tre donne si alzarono. Il parroco recitava l'ultimo Vangelo. Un'auto si fermò davanti alla chiesa e sul sagrato risuonarono dei passi esitanti. Megre era rimasto in fondo alla navata, addossato al portale e quando questo si aprì si trovò faccia a faccia con il nuovo venuto. Era Maurice de Saint-Fiacre. La sorpresa fu tale che il suo primo istinto fu quello di pattare in ritirata, mormorando «Mi scusi, io...» Poi, cercando di darsi un contegno, fece un passo avanti. «La messa è finita?» Era in preda a un evidente nervosismo e aveva gli occhi cerchiati come se non avesse chiuso occhio per tutta la notte. Insieme a lui era entrata una folata d'aria gelida. Arriva da Moulin. I due uomini parlavano a fior di labbre. Intanto il prete recitava la preghiera che segue il Vangelo e le donne, chiusi messali, recuperavano borse e ombrelli. «Come fa a saperlo?» «Ma in effetti io...» «Forse è meglio che usciamo». Il prete e il chiarichetto erano spariti nella sacristia e lo scaccino spegneva gli unici due ceri che erano serviti per la messa. Fuori l'orizzonte si rischierava e il bianco delle case vicine si stagliava nella penombra. L'auto gialla era là fra gli alberi della piazza. L'auto gialla era là fra gli alberi della piazza. Il disagio di Maurice de Saint-Fiacre era palese. Guardava Megrey con un certo stupore. Si meravigliava forse di vederlo con la barba non fatta e senza solino sotto il cappotto. «Si è alzato davvero presto?» mormorò il commissario. «Il primo treno, un rapido parte da Moulin alle sette e tre minuti». «Non capisco. Non mi sembra che lei l'abbia preso. Dimentica Mari Vassiliev». Ma certo, era ovvio. La presenza dell'amante di Maurice non poteva che suscitare imbarazzo al castello. Così lui l'aveva portata a Moulin in auto, l'aveva messa sul treno per Parigi e sulla via del ritorno era entrato per caso nella chiesa illuminata. Eppure Megrey non sembrava soddisfatto. Cercava di seguire gli sguardi angosciati del conte che aveva tutta l'aria di attendere o temere qualcosa. «Deve essere un tipo da prendere con le molle, eh?» insinuò il commissario. «Per lei è un brutto periodo e questo la rende molto suscettibile. La sola idea che io possa avere è la tentazione di nascondere il nostro legame da quanto dura? Da circa un anno. I soldi non le interessano. Abbiamo avuto momenti difficili». Lo sguardo del conte si era finalmente fissato su un punto. Megrey lo seguì e scorse alle sue spalle il parroco che era appena uscito dalla chiesa. Ebbe l'impressione che i loro sguardi si fossero incrociati e che il prete fosse imbarazzato almeno quanto il conte di Sanfiacre. Il commissario fece per rivolgerti la parola ma il parroco, dopo averli salutati in maniera goffa e frettolosa, entrò precipitosamente nella canonica come se stesse fuggendo. «Non ha l'aspetto di un parroco di campagna, eh?» Maurice non rispose. Attraverso la finestra illuminata potevano vedere il parroco seduto a tavola per la colazione e la domestica che gli portava una caffettiera fumante. I bambini cominciavano ad avviarsi verso la scuola con la cartella in spalla. La superficie dello stagno di Notre-Dame scintillava. «Che disposizioni ha dato, per?» cominciò Megrey. «E Sanfiacre, con improvvisa asprezza, per che cosa?» «Per i funerali. Chi ha vegliato stanotte nella camera mortuaria?» «Nessuno. Ne abbiamo parlato, ma Gautier sosteneva che non si usa più.» Dal cortile del castello giunse il rombo d'un motore a due tempi. Pochi istanti dopo, sulla strada, passò una moto diretta a Moulin e Megrey riconobbe Gautier figlio, quello che aveva intravisto il giorno prima. Indossava un impermeabile grigio e un berretto a quadrettini. Morise Sanfiacre non sapeva che pesce pigliare, non osava risalire in macchina e, d'altra parte, non aveva niente da dire al commissario. «Gautier li ha trovati, i quarantamila franchi?» «No, sì, cioè...» Meravigliandosi di vederlo così turbato, Megrey lo fissò con curiosità. «Li ha trovati, sì o no?» «Ieri ho avuto l'impressione che non si desse un grande affare. In fondo, nonostante le ipoteche e i debiti, dalla vendita della proprietà si realizzerà una somma molto maggiore.» Morise non rispose come se non avesse neanche ascoltato. Sembrava non si sa perché sconvolto e la frase che pronunciò non aveva alcun rapporto con quanto lui e Megrey si erano appena detti. «Me lo dica sinceramente, commissario. Lei sospetta di me?» «A che proposito?» «Ha capito benissimo. Ho bisogno di saperlo.» «Sospetto di lei come di chiunque altro», rispose evasivamente Megrey. Sanfiac si aggrappò a questa risposta. «Grazie. È così che si deve parlare alla gente. Capisce quello che voglio dire? Altrimenti la mia posizione è insostenibile.» «In quale banca verrà incassato l'assegno?» «Alquantà de Compte.» Una donna si dirigeva verso il lavatoio spingendo una carriola con due ceste piene di biancherie. Nella canonica il prete camminava su e giù leggendo il breviario, ma il commissario ebbe l'impressione che ogni tanto lanciasse loro degli sguardi carichi d'ansia. «La raggiungo al castello.» «Subito?» «Sì, tra un attimo.» Era chiaro. Maurice Sanfiac non ce la faceva più. Salì sulla sua automobile come un condannato a morte e il commissario notò che il prete, da dietro i vetri della canonica, lo guardava andar via. Megrevole va almeno mettersi il solino. Giunto di fronte alla locanda, incontrò un metaglier che usciva dalla drogheria. Si era infilato il cappotto direttamente sul pigiama. Guardo il commissario con aria di trionfo. «Una telefonata?» «Il mio avvocato arriva alle otto e cinquanta», replicò acido il giovane. Sprezzava sicumera da tutti i pori. Rimandò indietro le uova alla coque perché non erano abbastanza cotte e con la punta delle dita tamburellò sul tavolo una marcetta allegra. Dalla finestrella della sua camera dove era salito a vestirsi Megre, poteva vedere il cortile del castello, l'automobile da corsa e Maurice Sanfiacre, il quale, non sapendo che fare, si accingeva a tornare in paese a piedi. Il commissario si affrettò e qualche minuto più tardi era anche lui sulla strada diretto al castello. Si incontrarono a meno di cento metri dalla chiesa. «Dove sta andando?» chiese Megre. «In nessun posto. Non so. Magari in chiesa a pregare». Sanfiacre impallidì come se avesse colto nelle parole del commissario un significato misterioso e terribile. I drammi non gli si confacevano. Alto e forte offriva l'immagine di un giovane sportivo in perfetta salute, ma ad osservarlo meglio si scopriva in lui una sorta di mollezza. Si era un po' appesantito e i muscoli sembravano privi di energia. La notte in sonne lo aveva come afflusciato. «Ha fatto stampare le partecipazioni?» «No». «E come mai? La famiglia? I nobili della zona?» Il giovane ebbe uno scatto di rabbia. «Sa benissimo che non verrebbero. Un tempo sì quando era vivo mio padre. Durante la stagione della caccia al castello avevamo anche trenta invitati per intere settimane». «Nessuno lo sapeva meglio di Megre che di nascosto dai genitori partecipava alle battute di caccia felice di poter indossare il camiciotto bianco del battitore». Dopo e Maurice fece un gesto come per dire «la catastrofe! Il sudiciume!» Probabilmente tutto il Berris parlava della vecchia pazza che gettava al vento gli ultimi anni della sua vita con sedicenti segretari e delle terre che erano costretti a vendere l'una dopo l'altra e del figlio che faceva l'imbecille a Parigi. «Pensa che la sepoltura potrà aver luogo domani? Beh, sarebbe meglio mettere fine a questa situazione al più presto, capisce?» Un carro di letame passava lento e le sue grandi ruote sembravano macinare i ciottoli della strada. Si era fatto giorno, un giorno ancora più grigio del precedente, ma con meno vento. Megre vide in lontananza Gautier che attraversava il cortile venendogli incontro. Allora accadde una cosa strana. «Vuole scusarmi?» disse il commissario al suo interlocutore allontanandosi in direzione del castello. Fece cento metri e si girò. Maurice de Saint-Fiacre era sulla soglia della canonica. era chiaro che aveva appena suonato il campanello, ma quando sentisse di sé lo sguardo del commissario si allontanò bruscamente senza aspettare che gli aprissero. Non sapeva dove andare. Tutto il suo comportamento provava che si sentiva spaventosamente a disagio. Il commissario raggiunse l'intendente che lo aveva visto arrivare e lo aspettava con aria astiosa. «Le serve qualcosa?» «Solo un'informazione. Ha trovato i 40.000 franchi di cui il conte ha bisogno?» «No!» «E sfido chiunque a trovarli nell'intera regione. Tutti sanno quanto vale la sua firma. E allora?» «E allora se la sbrigherà come può. La cosa non mi riguarda.» Saint-Fiacre tornava sui suoi passi. Si intuiva che aveva una voglia pazza di fare una cosa e che per una ragione o per l'altra non poteva farla. Alla fine si decise si abbia verso il castello fermandosi poi accanto ai due uomini. «Gaudier l'aspetto in biblioteca per darle disposizioni.» E prima di andarsene aggiunse con evidente sforzo «A presto signor commissario!» Passando davanti alla canonica megreebbe la netta sensazione che qualcuno lo stesse osservando da dietro le tende ma non poteva averne la certezza visto che era ormai giorno fatto e le luci erano spente. Davanti alla locanda di Maritatin stazionava un tassì all'interno del locale un uomo ad una cinquantina d'anni tutto in ghingeri con i pantaloni a righe e la giacca nera profilata di seta sedeva al tavolo di Jean Metaillier. Quando vide entrare il commissario si alzò pieno di sollecitudine e si precipitò verso di lui con la mano tesa «Mi dicono che lei è funzionario della polizia giudiziaria permetta che mi presenti avvocato Tallier del foro di Bourges possiamo offrirle qualcosa?» Anche Metaillier si era alzato ma dal suo atteggiamento si capiva che non approvava la cordialità del suo avvocato «Locandiera se non le spiace vorremmo ordinare» e conciliante «Che cosa desidera? Con questo freddo quel che ci vuole un grog per tutti tre grog ragazza mia!» La ragazza era Maritatin che non era certo abituata a quei modi «Mi auguro commissario che vorrà scusare il mio cliente se capisco bene si è mostrato un po' diffidente nei suoi confronti ma non deve dimenticare che un ragazzo di buona famiglia non ha nulla da rimproverarsi e si è legittimamente indignato per l'atmosfera di sospetto che ha avvertito intorno a sé oserei anzi dire che la sua irritazione di ieri è la prova migliore della sua completa innocenza Con uno così non c'era neanche bisogno di aprire la bocca faceva tutto lui le domande come le risposte accompagnandole con gesti suavi naturalmente non sono ancora al corrente di tutti i particolari si capisco bene la contessa di Sanfiacre è morta ieri durante la prima messa per un arresto cardiaco ma nel suo messale è stato trovato un foglio che lascia presumere che la sua morte sia stata provocata da una violenta emozione il figlio della vittima che come per caso era nei paraggi ha forse esporto denuncia no denuncia che peraltro a mio giudizio non verrebbe accolta il gesto criminoso sempre che si possa parlare di gesto criminoso non ha infatti le caratteristiche necessarie perché possa essere istruito un processo penale fin qui siamo d'accordo vero? e se non c'è denuncia non ci può essere azione giudiziaria certo lei deve proseguire nelle sue indagini lo capisco beh 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 indagini che sottolineo conduce personalmente a titolo ufficioso ma il mio cliente non può accontentarsi di non essere penalmente perseguito è necessario che sia scagionato da ogni sospetto mi segue? in definitiva qual era la sua posizione al castello? quella di un figlio adottivo la contessa rimasta sola lontana da un figlio che le ha dato soltanto delusioni ha trovato conforto nella devozione e nella rettitudine del suo segretario il mio cliente non è uno sfaccendato avrebbe potuto vivere al castello senza preoccupazioni e invece ha preferito lavorare ha cercato degli investimenti si è persino interessato ad alcune recenti invenzioni se c'è qualcuno che poteva trarre vantaggio dalla morte della sua benefattrice non è certo lui non mi faccia dire di più è ciò che desidero commissario è appunto aiutarla a stabilire aggiungo che prima dovrò di concerto col notaio prendere alcuni indispensabili provvedimenti Jean Metaillet è un ragazzo fiducioso ma gli avrebbe immaginato che potessero verificarsi simili eventi ciò che gli appartiene è al castello mescolato a ciò che appartiene alla defunta contessa e al castello sono già arrivati altri con la chiara intenzione di mettere le mani su qualche pigiama e un paio di vecchie giabatte brontolonne gre alzandosi come ha detto scusi per l'intera durata della conversazione Jean Metaillet aveva preso appunti su un tacquino e fu lui a calmare l'avvocato che era scattato in piedi lasci perdere ho capito fin dal primo momento che nel commissario avevo un nemico e sono poi venuto a sapere che in qualche modo era uno del castello è nato lì all'epoca in cui suo padre era intendente dei Sanfiacre io l'avevo avvisato avvocato lo ha voluto lei l'orologio segnava le dieci Magret calcolò che il treno di Marie Vassiliev doveva essere arrivato alla gara di Lyon da circa mezz'ora vi prego di scusarmi disse vi rivedrò a tempo debito ma entrò a sua volta nella drogeria di fronte facendo tintinnare il campanello e lì attese per un quarto d'ora la comunicazione con Parigi è vero che lei è il figlio del vecchio intendente Magret si sentiva stremato fisicamente e moralmente quel caso lo stancava più di dieci inchieste normali Parigi in linea pronto parlo con il Comptoir de Compte qui la polizia giudiziaria senta vorrei un'informazione stamattina qualcuno ha cercato di incassare un assegno firmato San Fiacre è stato alle nove lei dice e l'assegno era scoperto pronto aspetti un momento signorina avete pregato questa persona di tornare più tardi benissimo proprio quello che volevo sapere una giovane donna vero circa un quarto d'ora fa e ha versato i 40.000 franchi la ringrazio ma certo che potete pagare no 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 niente di particolare visto che il versamento è stato effettuato Magret uscì dalla cabina tirando un profondo sospiro di sfinimento nel corso della notte Maurice Sanfiacre aveva trovato i 40.000 franchi e aveva spedito la sua amante a Parigi per versarla in banca uscendo dalla drogheria il commissario vide il parroco con il breviario in mano allontanarsi dalla canonica in direzione del castello allora accelerò il passo corse quasi per arrivare alla porta nello stesso momento lo mancò di poco quando raggiunse il cortile d'onore la porta si richiudeva alle spalle del parroco e quando suonò sentì un rumore di passi in fondo al corridoio dalla parte della biblioteca di passi Grazie a tutti